Buongiorno Cristian, sto tornando dal lavoro e ho fatto la notte, sono condizioni pietose e niente, ti volevo ringraziare per lo stage di Pisa perché è stata una cosa bellissima dal punto di vista mio, insomma, e vedere 25 anni liberi e la tranquillità delle persone secondo me è stato fantastico, non ho mai trovato una cosa così e credo non lo faccia nessuno io a volte ho fatto anche la assi ma queste cose qui non si trovano secondo me e sicché ti volevo ringraziare perché è stata una cosa bellissima e ho imparato tanto e anche sulla condotta al guinzaglio ho visto già risultati dal giorno dopo applicando belle regolette e niente, ripartirei domattina per farne un altro ho imparato tantissimo tanto che appena sono tornato a casa ho iscritto il cane a un corso da agility subito, sto scherzando eh, e niente, l'ho detto una cazzo, va bene dai e ci si rivedrà sicuramente in un altro stage, mi organizzo e sicuramente ne farò un altro perché è stato bello, bello bello, grazie a Cristian, grazie a Becky, grazie a tutti e sono stati due giorni belli, ciao!